Grazie Presidente, si tratta di un atto di indirizzo che si inserisce in attività che insomma abbiamo già portato all'attenzione di questa Assemblea Capitoline, ricordo anche degli atti della collega Ficcardi su questo, quindi non vedo problemi nel votare a favore sicuramente di questo ordine del giorno, tra l'altro dopo l'approvazione o comunque la votazione di questa delibera, insomma penso che anche un approfondimento magari tornati dopo il mese di agosto sul tema dello stato di avanzamento della partecipazione o dell'interazione digitale e delle disabilità anche in Commissione credo che possa essere anche questa un'attività interessante, quindi grazie anche ad altri atti approvati, anche a questo che si inserisce in un filone che fa parte insomma della riduzione delle diseguaglianze, pensiamo soltanto anche ai punti Roma Facile, credo che insomma dia forza a quello che si sta facendo e quindi insomma voteremo a favore, grazie.